Non so se pronuncio bene io, questa fiaba proviene da scritta una ragazzina che vive nel villaggio beduino di Anata Ierus in Palestina e si chiama, il villaggio è da Wadi Abuini e la ragazzina si chiama Sala Amadei, consegna il tira premio per questa ragazza che appunto ci ha scritto la fiaba in doppia lingua in italiano di Narva del campo profughi della Palestina, Barbara Larchetti rappresentante dell'AMG che segue questo progetto. Diploma, un libro e la targa del Presidente della Repubblica, consegna il premio il Sindaco Andrea Lavarello. Quelle che vedete proiettate sono alcune foto della scuola frequentata dal S.A. Leggo anche la motivazione, racconto proiettato il prossimo futuro dove speranza e esprezza della vita si intrecciano. Grazie.